ciao amici di play latina web tv facciamo vedere alla volta l'anzada che abbiamo spiegato l'altra l'altra volta una serie di passitos quindi il 3 stress e il il ccq che non ci viene mai ok va bene allora non è altro che abbinare un po le ultime cose che abbiamo fatto partendo da una vuelta l'anzada però attenzione perché per noi donne in questo caso cambia qualche cosa voglio dire questo 123 mentre giro 5 6 e 7 non montare lui il mio set sarà una montare di giro maggiore perché voglio tornare frontale a voi da di qui ancora 1 2 3 e 5 6 e 7 attenzione perché adesso noi partiremo col piede sinistro però per abituarci subito basico 1 2 3 5 6 e 7 andiamo a eseguire prima si si chiude 1 2 3 5 6 7 ancora 1 2 3 5 6 7 3 stress 1 2 3 5 6 7 base 1 2 3 5 6 e 7 facciamo la stessa cosa da un'altra cosa quindi dopo aver guardare nella stessa cosa per l'altezza che ci sta stessa guardare cosa mi faccio la stessa cosa perché abbiamo spiegato la stessa cosa si può parlare a una volta che abbiamo spiegato la stessa cosa che abbiamo spiegato la stessa 5, 6, 7, 3, stress, 1, 2, 3, 5, 6, base, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Ok, direi che anche questa volta è andata e ci vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!